Sensibilizzare il territorio per essere solidali con Siria e Afghanistan. E' questo l'obiettivo di Andrea Iacomini, editorialista di Politica Estera e portavoce di Unicef Italia. La commissione pari opportunità del comune di Biceglie ha ospitato l'autore alle vecchie segherie Mastrototaro, dove si è discusso della condizione precaria in cui stanno crescendo i bambini di due stati in grave difficoltà. Sono delle emergenze planetarie di cui dobbiamo occuparci. Questa sera abbiamo fatto il punto sulla condizione dei bambini e delle bambine in questi paesi. In particolar modo abbiamo colto l'occasione per raccontare come in Afghanistan oggi, accanto a una situazione politica complessa, esista una grave emergenza umanitaria. Ci sono 20 milioni di bambini e bambini, genitori, famiglie, che hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria. Cronache di indignazioni annunciate e il titolo dell'incontro che ha visto protagonista Iacomini, che ha avvicinato il pubblico all'Afghanistan e alla Siria attraverso le sue esperienze. Un modo per prendere coscienza di ciò che accade ai meno fortunati. Corre, e lo abbiamo fatto questa sera discutendo anche con Giuliano Foschini, dell'importanza di non spegnere la luce, di continuare a tenere alta l'attenzione su un dramma umanitario che rischia veramente di avere degli effetti impressionanti.